Questo è il sapone di Monica Ma non ti vedo a te però Ma non me ne vede Questo è il sapone di Monica Lo stampo l'ha fatto Piera E' venuto bellissimo Mi vedi? Mi vedi? Io si Sto pello piano quello con le cerniere quello con le cerniere quelle che vi hai fatto tu? si arriva? eccolo eccolo e se faria la criatura eccolo perché è passato un po' vedi? vedi? hai capito Piera? vi a vedere avvicina a zoom a zoom a zoom a zoom guarda che meraviglia un po' di bollicini adesso vi do una bella pulita ok ok continuo? ping ping Grazie.